Nonostante la curva dei contagi ieri nelle Marche abbia rialzato la testa, con 104 nuovi casi e un tasso di positività al 6,3%, a Pesaro dal punto di vista dei ricoveri la situazione all'ospedale Marche Nord resta sotto controllo, come spiega ai nostri microfoni il dottor Michele Tempesta, direttore di rianimazione e anestesia nella stessa azienda ospedaliera. Ad oggi abbiamo 7 ricoverati, di cui 2 vaccinati e 5 non vaccinati. Uno vaccinato ma solo prima dose, si è malato due giorni dopo aver fatto la prima dose di vaccino, quindi presumibilmente era già malato mentre faceva la prima dose di vaccino. Rispetto a un anno fa i ricoveri sono diminuiti sicuramente, in questo periodo avevamo già, mi sembra di ricordare, 12-15 pazienti ricoverati, ma soprattutto gli ingressi sono molto diminuiti. Abbiamo ricoverato gente che è dentro da un mese, un mese e mezzo per la gravità della patologia, ma nuovi ricoveri sono molto minori. La campagna vaccinale procede celermente, ma sottolinea il dottor Tempesta, la guardia non va abbassata, poiché il virus non è ancora sconfitto. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, però un conto è il contagio. Il vaccino permette di bloccare l'avanzare della malattia in forma grave, l'ospedalizzazione è quello che ci interessa.